In un documento dell'unità di crisi regionale si fa sapere che c'è necessità, visto l'andamento epidemiologico e della situazione in corso, di potenziare i centri Covid del territorio. Nel documento si sottolinea che al fine di aumentare ed ottimizzare le procedure di ricovero, si dispone di adottare un modello assistenziale che prevede l'istituzione di poli Covid in presidi ospedalieri non Covid in qualità di centri SPOC per patologie, al fine di fronteggiare sempre di più la rilevante domanda di ricovero di pazienti Covid per patologie d'organo non Covid correlate. Le unità operative di tipo specialistico da attivare in numero di quattro per ogni asla sono conseguenti alle seguenti discipline, cardiologia, chirurgia generale, ortopedia, ostetricia e ginecologia. L'attivazione per ogni asla delle quattro unità operative Covid-19 di tipo specialistico, sottolineano nel documento, si rende necessaria per soddisfare la domanda assistenziale dei pazienti Covid. Una manna dal cielo, dunque per l'ospedale Vallo Agropoli, se solo ci fosse la volontà di avviare il potenziamento della struttura. Ovviamente bisognerebbe anche tenere in considerazione la scarsa disponibilità di personale medico ed infermielistico, ma in un momento di crisi sanitaria la soluzione più efficace sarebbe quella di rimodulare i turni per le specializzazioni. Attualmente l'ospedale civile di Agropoli è attivo un reparto Covid e uno di malattie infettive a bassa e media intensità. Con il potenziamento e la riorganizzazione della struttura in polo Covid, il nosocomio agropolese vedrebbe finalmente funzionare le sale operatorie già pronte, oltre ad avere attivo un reparto di cardiologia, uno di ortopedia, ginecologia e ostetricia, che darebbero assistenza ai tanti malati Covid che oggi non possono essere trattati nelle strutture ospedaliere. Questa operazione potrebbe determinare la rinascita, anche se solo momentanea, del nosocomio, perché verrebbero allestiti i reparti per trattare i pazienti Covid con patologie. A questo punto la domanda sorge spontanea per i tanti cittadini di Agropoli e dell'intero comprensorio. Perché non avviare il potenziamento e la riorganizzazione? Perché si apre a vallo un centro Covid temporaneo quando è ad Agropoli un vero e proprio Covid center? Perché non realizzare un centro SPOC nella struttura, visto che ha tutte le caratteristiche e le predisposizioni per diventarlo? Andrebbe inoltre a completare quello che attualmente è presente, che è l'unica cosa che funziona da più di un anno nella struttura ospedaliera. Intanto l'allestimento del centro Covid temporaneo presso il San Luca di Vallo della Lucania prosegue nella contrarietà di tanti lavoratori della struttura e dei sindacati tutti.